E' già attivo per i residenti e le migliaia di ospiti dei campeggi di Cavallino Treporti, il nuovo punto di primo intervento medico realizzato dall'Ulss4 con un investimento di 838 mila euro. Cavallino Treporti fa 6 milioni e 200 mila presenze turistiche nella stagione estiva. Era fondamentale portare qua a un punto di primo intervento. Dei circa 220 metri quadri della struttura fanno parte un ambulatorio per le emergenze, due astanterie per ricoveri brevi, un ambulatorio turistico, accettazione e area triage. Qui siamo in grado di mettere in perfetta sicurezza qualsiasi paziente che sia colpito da un infarto, da un ictus oppure che abbia avuto un trauma. Una volta che il paziente è messo in sicurezza c'è tutto il tempo utile per trasportarlo in un ospedale più grande, in un pronto soccorso più grande. Il soccorso sul territorio viene garantito dalla presenza di due ambulanze operative 24 ore su 24 per il periodo estivo, una delle quali verrà mantenuta in servizio anche durante il resto dell'anno. All'interno di questo poi abbiamo creato il punto di assistenza per la medicina turistica, cioè c'è un medico di medicina generale nelle 24 ore per fare tutte quelle prestazioni che non riguardano l'urgenza e sono comunque differibili. Massima attenzione è rivolta all'accoglienza e alla gestione dei pazienti di lingua straniera, con la presenza di personale interprete nelle 12 ore diurne e un servizio di interpretariato telefonico in venti lingue H24. È fondamentale perché il colloquio tra paziente e medico ci aiuta a ridurre di molto la conflittualità e ovviamente a intervenire al meglio subito. La nuova struttura completa la fitta rete di servizi sanitari disseminati lungo tutta la costa veneziana.